Il Palio dell'Uricchiapp e un entusiasmante concerto in acustico di Michele Zarrillo sono stati i due appuntamenti di punta delle feste del Patrono a Chieti dopo la pandemia. Orario di inizio 18 e 15 per la tradizionale corsa dei cavalli berberi che viene corsa oggi da coppie di podisti. Organizzato dall'associazione Scopri Teatre che finanzia l'evento, il corteo dei 14 quarti è partito da Piazza Sant'Anna dopo il taglio del nastro per mano dei campioni olimpionici Fabrizia Dottavio e Gianluca Capitano. La vittoria per aver tagliato il traguardo è andata a Guido Barbuscio e Serena Marcucci del quarto Mater Misericordie. Villa Comunale Gremita invece alle 21 e 30 come non si vedeva da tempo per il concerto di Michele Zarrillo che ieri sera ha chiuso la prima giornata dei festeggiamenti. Un'ora e mezzo di musica che ha scaldato l'atmosfera dall'apertura con il brano L'elefante e la farfalla a una rosa blu Zarrillo ha fatto sognare una platea che dopo due anni di pandemia è tornata ad applaudire un artista molto amato in città. Sono lieto di essere tornato a Chieti che è una città che ormai mi accoglie da tanti anni e almeno una volta ogni due o tre anni devo esibirmi qui a Chieti ed è una cosa molto bella. Essere sul palco è un piccolo miracolo io dico che tutti questi spettacoli sono dei regali del cielo proprio che arrivano perché noi diamo un po' tutto per scontato però poi quando le cose ci mancano davvero e ci rendiamo conto che insomma nella vita bisogna godersi le cose e saperle apprezzare quando le hai. Questa sera tanti grandi successi cosa bolle però in pentola per il futuro? Spero sempre di poter aggiungere titoli, di poter aggiungere canzoni, musica, sto lavorando ad un nuovo disco, ad un nuovo progetto e mi auguro insomma di venire a presentare al più presto anche qui in Abruzzo. Due anni pieni di pandemia, finalmente un po' di spensieratezza, finalmente un po' di aria pura in questa bellissima nostra villa comunale, tanta gente, tanti tiatini, questo è quello che volevamo e avanti così.